Che cosa succede quando si utilizza lo smartphone o il tablet personale per accedere a dati ed applicazioni aziendali? Succede che molto spesso i reparti T vanno in difficoltà perché non sono preparati per gestire questo tipo di accesso. Questo è il BYOD, ossia il Bring Your Own Device, l'accesso a informazioni e applicazioni aziendali tramite un dispositivo mobile privato. Tu e il tuo reparto siete pronti a gestire il BYOD in azienda? Ossia come permettere l'accesso in sicurezza ad applicazioni dati aziendali senza installare qualcosa sui dispositivi dei dipendenti che ne violi la privacy? E ancora come far accedere dispositivi mobili in sicurezza ad applicazioni che stanno dentro la internet senza pubblicarle sul web? Caseia BYOD Suite è la soluzione a questi problemi, anche per chi non ha caseia. Ne parliamo insieme durante un webinar gratuito, ma attento perché i posti sono limitati. Iscriviti adesso!